Prosegue senza sosta l'intervento di riqualificazione avviato dall'Agenzia Campana per l'edilizia residenziale nel rione San Francesco a Napoli. Si tratta di un progetto che mira a restituire decoro e sicurezza ad un territorio fortemente segnato da problematiche sociali e urbanistiche. Nel corso delle operazioni di riqualificazione, infatti, si è resa evidente la necessità di intervenire in modo sistematico anche per combattere gli abusi edilizi. Acer ha avviato la demolizione di circa 75 strutture abusive, tra cui ampliamenti di abitazioni, verande, balconi, box-auto e, in alcuni casi, interi edifici non conformi alle norme. Proprio nell'ottica di contrastare l'illegalità e per restituire dignità ad un territorio da tempo alle prese con la presenza della criminalità organizzata, a metà luglio è scattato il blitz delle forze dell'ordine per liberare gli appartamenti occupati, secondo gli inquirenti, dai familiari degli esponenti dei continui bosti. Sul posto, per seguire da vicino le operazioni, il presidente di Acer, David Lebro. Il rione San Francesco è in via di rigenerazione totale, quindi si stanno abbattendo tre edifici che erano presenti all'interno dell'ex rione San Francesco e stiamo costruendo due edifici nuovi che ospiteranno 68 famiglie in un territorio adiacente che noi abbiamo preso dal demano dello Stato. L'intero intervento è di circa 43 milioni, le famiglie che sono oggetto dell'intervento sono innumerevoli, siamo circa sul migliaio di persone. Qui lo Stato è stato presente e quindi noi siamo riusciti ad aprire anche un'interlocuzione con quelle famiglie per bene, e ne sono tante, questa è la cosa che bisogna ben dichiarare, le quali quando hanno visto che effettivamente non solo non c'era accanimento, ma che al centro della nostra politica c'era la famiglia e che quindi noi attraverso un contributo, un progetto speciale approvato dalla giunta regionale, non gli davamo la possibilità di una sostituzione temporanea dell'abitazione, lì abbiamo avuto collaborazione.